Il ritiro procede molto bene, stiamo lavorando tanto, siamo un po' stanchi, però questo mi serve per mettere benzina per l'inizio del campionato. Sicuramente l'anno scorso è stato un anno molto molto travagliato, però quest'anno speriamo che non si ripeta nulla dall'anno scorso e stiamo lavorando per questo. Io spero che sia quest'anno l'anno del riscatto e di dimostrare il mio valore. Il mister in questo periodo mi sta provando nei tre davanti, a destra, a sinistra, nei tre quartisti, però io cerco di dare il massimo e dove il mister mi chiederà di fare un sacrificio lo farò. Il ritiro serve anche a questo, a formare un gruppo e noi fino adesso ci stiamo trovando molto bene. Sono arrivati tanti ragazzi nuovi, tutti dei bravi ragazzi, degli ottimi giocatori e questo quindi rende tutto più facile.